Quando guardiamo un film o una serie tv vediamo dei personaggi e spesso ci dimentichiamo che questi personaggi in realtà sono persone, hanno una storia, delle emozioni e dei sentimenti. Spesso si tratta di persone più simili a noi, di quanto pensiamo, ma l'attore di cui parleremo oggi dietro lo schermo soffriva di un grande male, aveva pensieri molto oscuri che riusciva a nascondere davanti alle telecamere. Ma come sapete se non vengono trattati, prima o poi questi pensieri diventano realtà. Ciao belli de zio, sono Andrew e anche oggi sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi infatti devo raccontarvi una storia davvero particolare, o meglio dobbiamo, esatto perché si parla di una persona famosa, di un attore, e quindi ho bisogno che lei mi aiuti. Salve a tutti amici, ciao Andrew, grazie per l'ospitalità, per chi non mi conosce io sono Alice del canale YouTube L'Ora del Tè e oggi io e Andrew vi racconteremo ben due storie, una sarà questa in questo video e una in un video che è uscito sul mio canale L'Ora del Tè. Quindi ci vediamo sia qui e vi aspetto poi sul mio canale una volta terminata la visione di questo video. Grazie Alice per essere qui, fidatevi ne avremo bisogno. Oggi infatti parliamo di Ryan Grantham. Forse il suo nome vi dice poco o nulla. Infatti non è che fosse un attore famosissimo e che conoscevano tutti, ma ha avuto sicuramente il suo bel da fare nel mondo dello spettacolo. Purtroppo adesso è conosciuto in tutto il mondo per motivi che non centrano molto con la sua carriera. Anzi direi che è conosciuto per i motivi più sbagliati che possiate immaginare. Quindi cerchiamo di fare chiarezza e cerchiamo soprattutto di capire cosa ha fatto. Preparatevi, potreste incazzarvi. Prima però mi scuso perché oggi ho la voce strana, credo che sia l'allergia, non lo so, comunque da giorni che sono così e dovevo registrare questo video prima o poi, quindi ho dovuto farlo in questo modo, spero che non vi dia troppo fastidio. Comunque partiamo subito con la vita di questo ragazzo enigmatico. Lo definisco così perché mi dispiace, ma non sappiamo molto della sua vita privata, il che è decisamente strano se consideriamo che si tratta di un attore. Di solito conosciamo vita, morte e miracoli di queste persone, ma lui è sempre stato un po' enigmatico, un po' sulle sue. Per questo abbiamo proprio solo le informazioni base sulla sua vita. Sappiamo che Ryan è nato in Canada, nella Colombre Britannica nel 1998. Si tratta di un bambino come tanti altri, viene cresciuto da sua madre nella città di Squamish, che si trova diciamo un'ora circa da Vancouver. Per tutto il corso della storia rimarremo in Canada, non ci sposteremo più di tanto. Il piccolo Ryan cresce tutto sommato abbastanza bene, nonostante un evento molto importante della sua vita, perché alla nascita di sua sorella Lisa, suo padre abbandona la famiglia, scompare nel nulla, tant'è che non abbiamo neanche tante informazioni sul padre. Cioè appena è nata la bambina, lui abbandona la famiglia per sempre e non si hanno più sue notizie. Anche online neanche siamo riusciti a trovare il nome, cioè sappiamo che è un uomo che a un certo punto abbandona la sua famiglia, ma non sappiamo nient'altro. Nonostante la madre di Ryan, Barbara White, si impegna tantissimo per crescere i suoi figli nel miglior modo possibile, chiaramente l'abbandono del padre ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita, nella psiche di Ryan e soprattutto in questa vicenda. Infatti Ryan si rende conto da molto piccolo che suo padre lo ha abbandonato. La prende ovviamente malissimo perché si tratta di un trauma a tutti gli effetti e molti pensano che sia stata proprio questa la vicenda chiave di tutta la storia, cioè il trauma che poi lo ha spinto a comportarsi in questo modo, che è rimasto dormiente però non curato e alla fine si sia risvegliato e abbia fatto sì che Ryan cambiasse totalmente il suo comportamento e arrivasse a compiere questi atti così atroci. Comunque nonostante l'abbandono, come dicevo, Barbara si impegna tantissimo per garantire una vita normale e felice ai figli. In realtà non sappiamo molto del periodo di crescita di Ryan. Sappiamo che lui inizia a farsi notare nel mondo dello spettacolo verso i nove anni, nel 2007, intorno al 2008, più o meno grazie al film The Secret of Nutcracker. Però aveva già avuto qualche altra parte un po' secondaria quando aveva sei anni, però è quel film che comincia a farlo affermare, comincia a far conoscere il suo nome all'interno del mondo del cinema. Nonostante il film non abbia ricevuto grosse critiche positive, diciamo che se si cerca online si hanno critic voti piuttosto nella media, alcune recensioni anche piuttosto negative, è stato comunque un trampolino di lancio sia appunto per farsi notare sugli schermi ma anche per iniziare a capire come funziona tutto il mondo del cinema, come si lavora dentro quel mondo. Il suo grande successo però arriva con un film molto molto atteso, su cui pesavano molte aspettative e quindi Ryan doveva essere bravo a sfruttare questa occasione, infatti ce la fa e il film di cui sto parlando è Diario di una schiappa, di Jeff Kinney. Infatti grazie a questo film molti attori e molte persone influenti all'interno del mondo dello spettacolo lo notano e infatti lui sembrava destinato ad avere una grande carriera. Tuttavia, come vedremo adesso in questo video, andrà diversamente, anzi, sarà tutto il contrario. Ryan continua la sua vita in un modo abbastanza tranquillo per un bel po' di anni. Come altri, prima di lui diventa una delle giovani star della tv e del cinema per famiglie. E già questo di solito non è un bene. Cioè, sì, ma ci sono tantissime storie di giovani attori che una volta adulti sono diventati pericolosi oppure che si sono tolti la vita per i motivi più disparati. Ecco, Ryan sta per entrare nella lista di giovani star che diventano problematiche una volta cresciute. Però, attenzione a definirlo una star. Ok, la lista dei suoi film è abbastanza corposa per essere solo un ragazzino e in un modo o nell'altro si fa conoscere. E va bene, ma è giusto sottolineare che Ryan in realtà non è un attore così famoso. Ovvio fa il suo, se la cava bene sul set e pochi si sono veramente lamentati del suo modo di recitare. Ma la realtà è che non è mai stato così richiesto. Cioè, non stiamo parlando di un attore conosciutissimo da tutti in tutto il mondo, anche se lui in futuro si sentirà un po' così. Tuttavia, i lavori a cui ha preso parte non sono mai stati chissà quanto apprezzati. E non per forza per colpa sua, cioè magari perché il film di turno non piaceva, oppure il suo personaggio non era scritto così bene. Cos'è così. Quindi vive e assapore il successo, ma tutto in maniera moderata. Possiamo classificarlo come una sorta di attore di serie B. È un modo un po' dispregiativo per definirlo, ma è solo per farvi capire. Era bravo, ma per un motivo o per l'altro non ha mai brillato più di tanto. Negli ultimi tempi comunque ha lavorato per serie come iZombie, Supernatural, ed è apparso anche nel primo episodio della serie Riverdale. Nomi abbastanza importanti che sono sicuro avete già sentito. Ma oltre al suo lavoro, Ryan frequentava anche la Simon Fraser University. Presto però decise di abbandonarla e di sospendere gli studi. A questo punto ha poco più di 20 anni e ha ancora il futuro davanti. Ma stando alla ricostruzione che siamo riusciti a fare, Ryan non vede proprio un futuro orrosio davanti a sé. Il problema è che nel corso del tempo il ragazzo sembra aver sviluppato qualcosa di brutto. Sembra iniziare a soffrire di qualche condizione mentale e anche se non viene specificato è probabile che il suo declino psicologico sia iniziato qualche anno prima. Direi prima che mollasse l'università. Il ragazzo quindi entra in una sorta di fase depressiva fatta di ansie, insicurezze, attacchi di panico e pensieri bruttissimi. La sua situazione nel 2020 è molto allarmante se non tragica. Ryan ovviamente non esce di casa, anche perché c'è la pandemia quindi non può, ed è costretto a stare ogni giorno con sua madre. Non sappiamo che fine abbia fatto sua sorella Lisa, ma credo che in quel periodo non fosse in casa con loro, o meglio non se ne parla abbastanza per farci un'idea chiara. Comunque Ryan in questo periodo che è stato buio un po' per tutti comincia a fumare tantissima marijuana e passa anche molto tempo online a guardare robe o scene. Parliamo davvero di cose violentissime sul dark web. E purtroppo col passare del tempo si appassiona anche alle armi. Già di base le armi sono un argomento decisamente controverso e complesso. Devo specificare però che non per forza se qualcuno è appassionato alle armi vuole automaticamente fare del male al prossimo, ma per Ryan questa passione diventa presto un grosso problema. Si diverte infatti a trastullarsi tra il suo fucile calibro 22 e le sue pistole. A volte armeggia con molotov e munizioni. Sembra essere sicuramente una passione un po' deviata che si discosta dal concetto classico di passione per qualcosa. E in più Ryan non sta più prendendo parte a nulla per quanto riguarda lavoro e studio. Sta abbandonando completamente ogni impegno e la sua testa viene infestata da una serie infinita di tormenti e preoccupazioni che alla fine lo fanno semplicemente impazzire. Sicuramente il fatto di essere isolato e l'uso di sostanze seppur leggere hanno influito molto. Ma non è solo questo. Sta qui il mistero. Qualcosa in quegli anni lo ha cambiato in modo drastico e non possono essere state solo le droghe. C'è qualcosa sotto. Qualcosa dentro di lui. Un mix di sensazioni e pensieri che forse si porta dietro fin da quando era piccolo. La vicenda è stata così tragica e repentina che è stato molto difficile mettere insieme le informazioni perché per tutti quanti è stato difficile non solo ricostruire la situazione ma dargli anche un'interpretazione. Quello che infatti vi stiamo per raccontare sono informazioni che abbiamo prevalentemente trovato online quindi non siamo sicuri che sia tutto effettivamente certificato. Quello che sappiamo è che Ryan stava affrontando una battaglia emotiva dentro se stesso. Aveva dei sentimenti contrastanti. Da un lato c'era lui che aveva ingigantito la sua fama. Aveva ingigantito la sua fama pensava di essere un grande attore e quindi pensava di avere una condizione differente da quella dei suoi coetanei e quindi di conseguenza di non essere capito. Provava questa sensazione perenne di vergogna. Una vergogna mista a senso di colpa. Quindi tutto questo suo essere famoso chiaramente ingigantito perché aveva iniziato ad essere un nome relativamente noto però lui aveva ingigantito tutto quello che girava intorno a lui e questa sua percezione distorta della sua fama lo portava a provare questo senso di vergogna. Ma dall'altro lato c'erano dei sentimenti invece totalmente differenti. Quasi all'opposto erano due cose agli antipodi. Cioè allo stesso tempo si sentiva sia famoso ma anche un fallito. Un fallito che non riusciva a rispettare le aspettative che pensava che gli altri avessero di lui. Quindi era anche una sensazione, un contrasto di emozioni piuttosto complesso e questa complessità lo portava ad avere pensieri ancora più complessi. Infatti molti ipotizzano che si trattasse di vero e proprio narcisismo. Cioè lui aveva ingigantito la sua popolarità, aveva ingigantito i suoi problemi, aveva ingigantito delle aspettative che in realtà non c'erano. Quindi questi problemi lo portano a sentirsi incompreso dal mondo, a chiudersi sempre di più, a tenersi questi problemi dentro e non risolverli. Questa sensazione di disagio è aggravata anche dalla condizione che tutto il mondo stava affrontando perché ci troviamo nel 2020. Ryan così come tutto il resto del mondo si trova in lockdown e quindi trovandosi in lockdown come tutti ha passato molto tempo con se stesso. Quindi con tutte queste sue turbe, con questo suo orgoglio di essere famoso ma allo stesso tempo con questa sua paura di non rispettare le aspettative degli altri e soprattutto con il fatto che non poteva lavorare perché chiaramente anche il cinema era fermo. Quindi lui si ritrovava a casa da solo nella sua camera con tanti problemi e con l'impossibilità di lavorare e mandare avanti la sua carriera. La pandemia infatti ha reso instabile molte persone, molte situazioni familiari e questa sembra essere proprio una di quelle storie. Infatti questo suo disagio emotivo prima del lockdown veniva espresso con la scrittura. Lui aveva diciamo questo diario in cui scriveva tutte le sue emozioni, tutti i suoi pensieri e anche tutte le sue sensazioni nel riguardarsi in televisione, nel guardare anche le serie tv. Lui descriveva tutto in questo diario. Questo diario durante questo periodo di lockdown si trasforma in un video diario cioè dei video in cui lui si riprende davanti la telecamera. Non sappiamo di preciso quale fosse il contenuto di questi video ma sono stati definiti come davvero strani ed inquietanti. Purtroppo non sappiamo molto altro. C'è tuttavia un altro campanello d'allarme che sarà poi fondamentale in questa storia cioè la passione di Ryan per le armi. Non sappiamo il perché l'abbia sviluppata ma sappiamo qual è stata poi la conseguenza di tale amore per le armi dato che lui era in questa condizione psicologica molto fragile. Non aveva chiesto alcun tipo di aiuto anzi questa sua sensazione di disagio si sviluppava sempre di più dentro di lui. Veniva alimentata da lui stesso e lui sentendosi incompreso dal mondo invece di dare la colpa a se stesso aveva cominciato a dare la colpa agli altri e si instaura dentro di lui il desiderio di utilizzare le armi contro qualcuno e vuole farlo per dimostrare qualcosa principalmente a se stesso. Quindi capite che siamo arrivati al punto di non ritorno di questa storia. Ryan ha questa situazione di disagio pensa che tutto il mondo giri intorno a lui non riesce a sfogare le sue emozioni se non davanti ad una telecamera quindi c'è anche questo bisogno di essere al centro dell'attenzione. Tutto questo suo turbinio di emozioni lo porta a voler dare una lezione al mondo quindi gli entra nella testa questo suo sentimento di volerla far pagare a qualcuno di voler fare una strage di voler utilizzare le armi contro qualcuno per dimostrare a se stesso qualcosa e fare del male alle persone che non lo capiscono in qualche modo. Quindi secondo lui il suo disagio non è colpa sua ma è colpa degli altri e qui arriviamo al giorno decisivo. Tutto parte da un'idea che gli viene in mente il 5 marzo 2020. Quel giorno è seduto sulla sua auto davanti alla sua università la Simon Fraser University ha con sé il suo prezioso fucile calibro 22 e guarda la scuola poi il fucile poi di nuovo la scuola poi di nuovo il fucile. Non oso neanche immaginare le scene che gli sono passate per la testa in quel momento ma passano i minuti e alla fine non fa nulla ma questa vicenda gli lascia qualcosa dentro qualcosa che lo porta a pianificare un vero e proprio piano diabolico in un completo delirio di onnipotenza sente di voler fare una strage in un ponte molto famoso di Vancouver il Lion's Gate Bridge e forse anche al suo college così per non farsi mancare nulla. Prima di andare al ponte però vorrebbe anche andare a casa del primo ministro canadese Justin Trudeau. Vuole ucciderlo per lanciare una sorta di messaggio molto forte per la società. Non è chiaro cosa avrebbe voluto fare dopo tutto questo ma a quanto pare a questo punto non gliene frega molto. Così stabilisce una data per questo suo piano distruttivo. Avrebbe agito il 31 marzo 2020 e l'attesa raccoglie nella sua auto tutte le armi e le munizioni necessarie e aggiunge anche attrezzi dal campeggio, ben 12 molotov e ovviamente il suo fedelissimo fucile. In questo lasso di tempo tra il 5 e il 31 marzo chiaramente rimane da solo a casa con sua madre Barbara. Ora Ryan è 21 anni e sua madre 64. Lei indubbiamente si accorge del cambiamento di suo figlio nota che c'è qualcosa che non va ma non si immagina nemmeno tutta l'oscurità che gli passa per la testa e così non riesce a fare niente per aiutarlo davvero. Intanto però i giorni passano e si arriva inesorabilmente al 31 marzo 2020. Ryan è molto teso, ricarica e scarica la sua pistola continuamente e in modo molto nervoso. Sta palesamente prendendo tempo prima di compiere il gesto fatale. Nell'attesa però ha dei ripensamenti. Sa che sta per fare la cosa più terribile della sua vita, si vergogna del suo piano e vorrebbe che almeno i suoi cari non sapessero che cosa ha architettato. Quindi gli viene in mente che forse sarebbe meglio se sua madre non sapesse nulla. Per cui nei suoi deliri pensa che ha senso toglierle la vita per poi passare al piano generale. Così non avrebbe avuto modo né di sapere né di assistere a quello sterminio. Così Ryan comincia a riprendersi con la sua GoPro e subito nel video chiarisce le sue intenzioni. Le pagine del suo diario poi sono ormai riempite di note e sfoghi in cui confessa ciò che sta per fare, nonché le motivazioni che l'hanno spinto a farlo. Barbara nel frattempo è completamente ignara di tutto e per rilassarsi, come fa sempre, è seduta al pianoforte e suona. Suona in totale tranquillità e armonia. Quella però sarà la sua ultima canzone. Mentre è distratta Ryan passa dietro di lei e riprendendo tutto con un solo colpo mette fine alla sua vita. Poi continua a parlare ancora davanti alla GoPro mostrando quello che ha fatto. Si giustifica dicendo che con questo omicidio finalmente non ha più vergogna di niente e dice che adesso può agire libero e indisturbato senza più provare quella spiacevole sensazione. Ora secondo lui nessuno può più giudicarlo. Una volta registrati questi due video esce di casa per comprare un po' di marijuana e tela birra. Torna poi di nuovo a casa, prepara le molotov, mentre in sottofondo c'era la televisione con Netflix acceso. Dopo circa due ore e mezza si addormenta beatamente e ricordiamocelo con il cadavere di Barbara, di sua madre, sul pavimento del soggiorno. Dorme tutta la notte, arriva il giorno dopo e sembra essersi convinto di volersi sbarazzare del cadavere della madre. Tuttavia non ci riesce. Non ci riesce, quello che fa è qualcosa di un po' bizzarro, quasi come se fosse un rituale, quasi come se fosse una sorta di omaggio. Copre il corpo di sua madre con un lenzuolo, lo circonda di candele e poggia un rosario sul pianoforte. Ci vorrebbero ore per analizzare solo questo gesto perché dice molto di Ryan. Ormai però niente può più fermarlo, Ryan è pronto al peggio. Anche se allo stesso tempo sembra comunque pentito di quello che ha fatto, perché il fatto di aver coperto sua madre con un lenzuolo, come vi dicevo, è quasi una sorta di sepoltura. Lui infatti successivamente ammetterà di non aver ucciso sua madre per rabbia. L'ha uccisa per evitargli un grande dolore, perché lui non voleva che sua madre vedesse suo figlio in televisione compiere una strage. Quindi il motivo per cui l'ha uccisa non è stato nessun tipo di rancore, nessun tipo di rabbia. Voleva evitarle una grande delusione. Tuttavia, da quel che si è capito, molto probabilmente sua madre, nonostante fosse girata di spalle, aveva capito quello che stava succedendo, il che dà ancora più un tocco drammatico alla questione. Ma tornando a noi, Ryan, una volta appunto fatta la sepoltura a sua madre, prende tutto il necessario, lo mette in macchina, entra nella macchina e parte. La prima destinazione è quella del primo ministro canadese, a circa 40 minuti di strada da casa sua. Il viaggio serve a Ryan per riflettere tantissimo, perché lui non solo stava riflettendo sulle sue azioni, ma si guardava intorno, guardava tanta gente felice, tanta gente che lui pensava non meritasse di vivere, tanta gente che aveva quella sensazione di pace che a lui a quanto pare non era concessa. Ryan ad un certo punto si ferma con la macchina, si ferma in una zona abbandonata, in una zona isolata, prende una molotov che aveva precedentemente preparato a casa e aveva nel bagagliaio, la accende e la lancia nel nulla. Non si capisce se effettivamente Ryan stesse cercando di perdere tempo, perché considerate che in un tragitto che normalmente appunto ci vogliono 40 minuti, lui ci mette due ore e mezza, quindi è probabile che forse sia stato preso anche in alcuni momenti di lucidità magari, da una sorta di pentimento, stesse cercando di perdere tempo in qualche modo e magari anche la molotov era un modo per sfogare l'ansia che lui aveva addosso. Infatti è stato proprio questo lungo tragitto che gli ha permesso di riflettere, perché se Ryan fosse semplicemente uscito di casa per andare nella casa accanto probabilmente avrebbe commesso una strage, ma quel tragitto, quel tempo del tragitto è stato fondamentale, forse per fargli riacquisire un barlume di lucidità. Capisce che ha fatto una stupidaggine e molto probabilmente aveva realizzato di essere un assassino, probabilmente ha iniziato a piangere, ad urlare, a sentire un senso di vergogna, un senso di paura per quello che aveva fatto. Capisce che non ha più senso proseguire in quella direzione perché non è più convinto di quello che stava facendo. Si dirige verso la città di Hope preso da mille paranoie e alla fine prende come direzione Vancouver. Lì si reca in una stazione di polizia, c'era una volante parcheggiata davanti, si appoggia alla volante, si presenta e confessa di aver tolto la vita a sua madre Barbara. Ed ecco che la sua storia diventa di dominio pubblico. L'omicidio di sua madre, di fatto, lo ha reso molto più famoso di quanto fosse prima. Lui si sentiva una grande pressione addosso, come se fosse una vera e propria star, ma la verità è che molte persone neanche sapevano chi fosse prima dell'omicidio. Non è mai stato una baby star di Hollywood, ma piuttosto un giovane attore secondario con manie di grandezza e con un enorme vuoto da colmare, probabilmente causato dall'abbandono del padre in tenere età. Ciò che lo ha rovinato sono una serie di fattori ben distinti, ovvero la pandemia, il suo lavoro, la marijuana, il narcisismo e una vergogna interiore che non trovava pace. Un mix letale che poteva esplodere in modi molto peggiori. Il 23 settembre 2022 Ryan Grantham si è dichiarato colpevole di omicidio di secondo grado ed è stato condannato all'ergastolo, ma potrà beneficiare della libertà condizionale dopo 14 anni. All'inizio volevano dargli 17 anni e la difesa voleva negoziare con 12, facendo leva ovviamente sul fatto della condizione mentale, ma alla fine il giudice ha deciso 14 anni, una sorta di compromesso. È stato confermato poi che il ragazzo soffrisse di disturbo ad ansia depressivo e pensieri suicidi. Ci sono però dei recenti sviluppi riportati da TMZ.com. Negli ultimi mesi Ryan è stato visitato da uno psichiatra nell'ospedale carcerario in cui risiede. Non si trova più in galera perché secondo i suoi legali gli farebbe più male che bene, addirittura dicono che se restasse in un carcere di massima sicurezza rischierebbe continuamente la vita. Questo a causa dei comportamenti degli altri detenuti che lo coinvolgerebbero in ris e stupri. Parlando con i medici comunque il ragazzo ha ammesso le proprie colpe, si è dispiaciuto per quanto ha fatto alla madre e ha cominciato a lavorare molto su se stesso. Già durante il processo ha detto che le sue scuse non bastano e che è sinceramente dispiaciuto. Ma molte persone credono che liberarlo dopo 14 anni sarebbe un azzardo. Pensano che Ryan sarà sempre pericoloso per via delle sue tendenze. Vabbè, come al solito c'è chi è d'accordo con la condanna e chi no. Ma è ovvio che se vuole tornare libero deve fare un notevole sforzo psicologico. E di sicuro ci vorrebbero molti anni. Però dato che in due ore e mezza è riuscito a ragionare e ha cambiato idea riguardo la strage, forse un pochino di speranza c'è. Certo, un crimine del genere ti macchia a vita. È una ferita che non si rimarginerà mai. Ha ucciso sua madre. Ma nonostante questo si può sempre sperare il meglio. Comunque, come vedete, la faccenda è abbastanza nuova per cui staremo a vedere come si evolveranno le cose nel corso del tempo, se si evolveranno. Grazie a tutti per aver guardato questo video. Vi aspetto sul mio canale, sull'Ora del Tè, perché io e Andrew vi raccontiamo un'altra storia. Ciao a tutti! Io invece ringrazio tantissimo Alice per essere stata qui e vi ricordo che nel suo canale è online un altro video che abbiamo fatto insieme. Ora vi ricordo di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento a questo venerdì con un altro file. Ciao!